Le telecamere parlano chiaro, siamo davanti a persone che sapevano che cosa fare, dove farlo e in che momenti. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno in una manciata di minuti, tre per l'esattezza. A finire nel mirino dei ladri, ancora una volta un'azienda di pelletteria di lusso valdarnese. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Bomba, frazione alle porte di Cavriglia. Il modus operandi è sempre lo stesso, quindi pensano che le persone siano le stesse. Due camion rubati sono stati utilizzati come barriere per chiudere la strada, poi i banditi si sono lanciati contro il cancello con un camioncino rubato da un'altra azienda aprendosi un varco. A quel punto sono entrati dentro e si sono diretti nei locali dove erano custoditi i prodotti griffati, borse e valigie. Hanno razziato quanto trovato e poi caricato l'area furtiva su un quarto furgone, anche questo rubato. Un pullman della Maddì è passato, ha trovato la strada sbarrata da due camion, due camion di movimento terra qua in fondo. Giustamente dice qui succede qualcosa, i signori si sono visti fortunatamente per noi un attimino a volto scoperto ed ecco che hanno preso il possibile e sono venuti via, altrimenti non so che sarebbe successo ben di peggio. Ed infine la fuga, anche questa studiata nei minimi dettagli, per dileguarsi la banda ha utilizzato le strade bianche che si trovano nell'area dell'ex miniere Enel. Il bottino resta da quantificare, sono in corso indagini portate avanti dai carabinieri per risalire agli autori del furto. Un colpo che arriva a pochi giorni di distanza da quello tentato in un'altra pelletteria, in questo caso a Pian di Scò. La cosa che possiamo fare per adesso è dissuadere queste persone dal tornare, guardie armate, quello che possiamo fare nel momento è questo. Stiamo ampliando ulteriormente i nostri livelli di sicurezza, però mi capisce che viviamo sempre sul chi va là, ecco, non è bello perché comunque sono in giro. Grazie. Grazie. Grazie.